Agguato di mafia in provincia di Taranto sulla statale 106 vicino a Palagiano uccisi un bimbo di tre anni, la madre e il compagno della donna. Salvi due altri bimbi di 6 e 7 anni. Il ministro dell'interno Angelino Alfano oggi ha disposto l'invio di 60 uomini tra poliziotti e carabinieri in provincia di Taranto. Il punto in diretta con Francesco Perziani. Buon pomeriggio. Sì buon pomeriggio. Triplice omicidio dunque. Ieri sera intorno alle 21 e 30 qui a pochi metri dalla nostra postazione lungo la statale 106 dir così viene denominata e la statale che collega la 100 la Taranto Bari con la SS 106 ionica Taranto Reggio Calabria. Sono morti Cosimo Orlando 43 anni pregiudicato di Palagiano che stava scontando una pena a 30 anni di reclusione per un duplice omicidio avvenuto a Castellaneta nel 1998 ma da qualche mese aveva avuto la semilibertà dunque poteva uscire dal carcere nel corso della giornata e fare rientro per la notte. E così stava facendo ieri sera quando transitava su questa strada in compagnia di Carla Maria Fornari di 31 anni anche lei di Palagiano una vedova vedova di un pregiudicato che venne ucciso nel 2011 sempre qui a Palagiano e con loro due c'erano i tre figlioletti della donna. Il più piccolo quello di tre anni era in abbraccio a Cosimo Orlando che era al lato passeggero infatti da pregiudicato non poteva guidare non aveva la patente alla guida c'era la mamma. Per loro tre non c'è stato scampo mentre si sono miracolosamente salvati gli altri due figli della donna di 6 e 7 anni. Palagiano è piena di carabinieri in questo momento. Poco fa sono arrivati i 60 uomini di rinforzo che sono stati inviati dal ministro Alfano. Le indagini proseguono a ritmo serrato. Viene setacciato tutto il territorio, proseguono i posti di blocco. Numerose persone sono state ascoltate nel corso della notte ma ancora c'è tanta gente da sentire. Che cosa può essere successo? Chi era la vittima designata? Probabilmente l'ipotesi più probabile è che sia appunto Cosimo Orlando dati i suoi precedenti oppure perché una volta ottenuta la semilibertà aveva in qualche maniera ripreso a trafficare in stupefacenti, cosa che faceva sin da prima di essere rinchiuso in carcere. Oppure l'obiettivo dei killer poteva essere la sua compagna con la quale aveva questa relazione, Carla Maria Fornari, la vedova, aveva questa relazione da 3-4 mesi, insomma da quando aveva ottenuto la semilibertà. Ogni ipotesi è buona, nessuna si può scartare e le indagini da questo punto di vista, vi dicevo, proseguono a ritmo serrato. Questa mattina c'è stato un vertice al comando provinciale dei carabinieri. Le indagini vengono coordinate dal sostituto procuratore Remo Epifani. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto per venerdì il vice ministro Bubbico ha annunciato una sua visita qui a Taranto in prefettura, sarà qui per sentire le forze dell'ordine, i rappresentanti delle forze dell'ordine per incontrare certamente il procuratore della Repubblica. Abbiamo sentito le reazioni dei politici ad ogni livello, si parla di omicidio di mafia, ma forse la mafia in questo caso non c'entra, benché le modalità dell'esecuzione siano state davvero efferate, non fermandosi i killer neanche di fronte ai bambini. E hanno sparato, hanno sparato a bruciapelo, forse una ventina di colpi, calibro 9x21, forse con una pistola o addirittura con una mitraglietta. Hanno raggiunto l'auto, quindi l'avevano seguita e poi in quel punto che vi abbiamo indicato prima l'hanno praticamente stretta contro il guardrail e hanno intensificato il fuoco. Per il momento da Palagiano è tutto, vi restituisco con la linea.